Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Eseguite a Cosenza quattro misure cautelari per furto e rapine reterate con utilizzo anche di esplosivo, i particolari nel servizio di Dario Rondinella. Agli arresti degli autori di alcune rapine effettuate negli ultimi mesi nella città di Cosenza, gli inquirenti ci sono arrivati dopo un'accurata e scrupolosa indagine che ha permesso di inchiodare in modo inequivocabile gli autori e lanciare un segnale chiaro che l'impegno delle autorità nei confronti della criminalità c'è ed è capillare, una criminalità liquida come più volte ha affermato il capo della procura della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo senza una mente che opera a ranghi sciolti per bisogno, contrariamente a come generalmente agiscono i professionisti, se così si può dire, del settore. Infatti lo dimostra l'età degli arrestati, tutti giovani appartenenti a famiglie per lo più indigenti. Da qui viene confermato anche l'allarme sociale lanciato nelle scorse settimane, ribadito nel corso della conferenza stampa di oggi da procuratore aggiunto la dottoressa Marisa Manzini, che è ritornata a rivolgersi alle istituzioni e alle famiglie di questi giovani che commettono anche questi reati per avere più liquidità per l'acquisto e l'uso di sostanze stupefacenti. Insomma, una mole di lavoro, quello della procura, come ha ribadito spagnolo, che viene svolto con una carenza d'organico che però dovrebbe essere colmato quanto prima. Arriveranno dei magistrati, sarà nuova linfa, ci sono tante cose da fare, tanto lavoro da portare avanti, ci sono alcuni settori, quello ambientale, quello della sicurezza sul lavoro, quello dell'arricchimento patrimoniale che necessitano, quello della pubblica amministrazione che necessitano un impegno vigile al massimo. Matteo Renzi in Calabria, diverse le tappe dell'ex Premier. Prima la tappa a Reggio Calabria dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà, poi il trasferimento all'Ocri dove ha incontrato invece il gruppo dirigente del consorzio Goel, successivamente visita alla cittadella regionale per confrontarsi con il governatore Oliverio. Una breve tour in Calabria per l'ex Premier Matteo Renzi che non ha voluto in nessuna circostanza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Con Falcomatà ha affrontato il tema dei progetti per la città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche le questioni relative alle primarie e al prossimo congresso del Partito Democratico. Un colloquio che prelude ad un possibile coinvolgimento di Falcomatà nelle future vicende del PD. Nella cittadella regionale a Germaneto Renzi ha poi accolto cordialmente i giornalisti, ma si è nuovamente sottratto ai tentativi di porgli delle domande. L'incontro tra l'ex Premier e Oliverio è durato circa un'ora. A parlare, a margine dello stesso, è stato il governatore. Renzi sta definendo il suo programma e quindi, come sta facendo in più realtà del Paese ed oggi qui in Calabria, ha voluto incontrarmi e di questo lo ringrazio, anche perché è venuto nella nostra cittadella regionale, ha detto Oliverio. I temi congressuali sono aperti, ha aggiunto, e quindi si è parlato anche di questo. Il punto centrale è stato però un confronto sui tanti problemi del Paese, del Mezzogiorno e della Calabria. Infine, il rientro sulla Salerno-Reggio Calabria. Non l'ho potuta inaugurare io, ma almeno la testo in notturna, ha scritto l'ex Premier su Instagram, postando una foto scattata dal cruscotto della sua auto. Dal Natale scorso, in linea con le indicazioni fornite dalla Prefettura, sono in azione a Reggio Calabria le aliquote di primo intervento dei carabinieri. Si tratta di uomini del comando provinciale assegnati alle dipendenze del nucleo operativo della compagnia. I militari, particolarmente addestrati ed equipaggiati, sono in grado di fronteggiare un aprimo contatto con eventuali terroristi, consentendo il successivo intervento del gruppo di intervento speciale dei carabinieri. Il nuovo e mutato scenario terroristico internazionale ha reso necessaria la predisposizione di forze speciali. Dopo l'attentato a Charlie Hebdo, l'arma ha iniziato a studiare le contromosse. Le aliquote di primo intervento, che fanno perno sulla struttura territoriale dell'arma, sono permanentemente schierate in 16 capoluoghi di provincia. Hanno il compito di intervenire con la massima rapidità in caso di attacco terroristico multiplo ad obiettivi urbani nell'area di competenza. Fa ritorno a Vibo, Valencia, dopo due mesi nel mare di Lampedusa, la motovedetta CP265. Ha ormeggiato verso le 9 e meno un quarto di sera, tra gli applausi di parenti e amici, la motovedetta CP265, dopo 60 giorni di missione a Lampedusa, dove è stata impegnata nell'ambito del dispositivo messo in campo dal comando generale delle capitanerie di Porto per far fronte alla necessità di soccorrere i tanti migranti che si imbarcano sulle carrette del mare per attraversare il canale di Sicilia e raggiungere le sponde dell'Italia. Otto uomini al comando del primo maresciallo Paolo Fedele, che già da domani riprenderanno la loro consueta attività su tutto l'elettorale di giurisdizione della capitanerie di Porto, da Maratea a Nicotera. Sono stati due mesi, diciamo, meravigliosi sotto il profilo professionale, dove effettivamente è venuto fuori un grande equipaggio. Non è il comandante, ma è tutto l'equipaggio. Io ho ancora in mente una scena dopo essere stati intercettati, cioè mandati a 120 miglia da Lampedusa, a 30 miglia da Tripoli a recuperare 150 persone. Queste persone sono state imbarcate e trasbordate verso Lampedusa con il mio equipaggio, che era lì come fa un padre e una mamma a rimboccare le coperte termine. Una scena bellissima che... Emoziona ancora. Emoziona. Mi ha emozionato e lì vedi il senso che questa professione o la ami o se no non riesci a farla. E io devo ringraziare il mio equipaggio, splendido, meraviglioso. Otto padri di famiglia che mi hanno supportato e ci hanno permesso di ottenere degli splendidi risultati sotto il profilo umano. Lei era già abituato ad avere a che fare con gli immigrati, con l'Africa, con i profughi. Qual è stata la differenza dall'accoglierli qua e accoglierli invece in mezzo al mare? Lì, come dice Papa Francesco, si sente davvero la sofferenza. Lì effettivamente prendi delle persone che forse il trapasso tra la Libia e l'imbarco è breve, quindi non hanno nemmeno il tempo di metabolizzare ciò che succede a terra. Un'esperienza toccante. Toccante soprattutto quando vai a soccorrere dei bambini, due mesi, tre mesi, dove effettivamente lì vedi che l'umano è così bello e anche così cattivo. Sono stato ancora una volta provo di essere un equipaggio veramente affiatato e devo dire veramente i miei complimenti a tutti quanti loro. Sfrutterete questa esperienza che loro hanno fatto sul campo, anche qui durante gli sbarchi e nel porto di Vibomarina? Qui sicuramente siamo ormai, posso dire, quasi abituati, considerato che sono ormai quasi tre anni circa che abbiamo sbarchi e quindi abbiamo già una, ecco, appunto quasi una forma di abitudine a questi sbarchi. Sicuramente aver avuto la possibilità, soprattutto da parte loro e poi trasfonderanno in noi sicuramente questa esperienza che hanno fatto, aver avuto la possibilità di andarli a raccogliere mentre erano in mare, ovviamente poi fa vedere con occhi diversi tutti quanti quelli che poi arriveranno ancora a Vibom. Posto sotto sequestro nel porto di Crotone un cantiere. Le fiamme gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone hanno effettuato un accesso ad un cantiere all'interno dell'area del nuovo porto sulla banchina di Riva del Molo sotto Flutti, dove alcuni operai erano intenti alla realizzazione di una recinzione mediante il posizionamento di barriere di cemento. Le fiamme gialle attirate dalla presenza di un escavatore in area dichiarata a rischio ambientale hanno proceduto ad effettuare accertamenti tesi a verificare la conformità delle opere edili in esecuzione rispetto alle autorizzazioni concesse dagli enti preposti. Dall'esame della documentazione, i militari hanno accertato che le opere realizzate erano in contrasto con le prescrizioni riportate nella concessione damagnale rilasciata alla ditta esecutrice dall'autorità portuale di Gioia Tauro e di conseguenza in assenza del previsto permesso a costruire che sarebbe dovuto essere rilasciato dal comune di Crotone. Nell'ambito dell'intervento effettuato è stato richiesto anche l'ausilio dei tecnici dell'ARPACAL che hanno eseguito accertamente i campionamenti finalizzati a verificare che i lavori eseguiti fino a quel momento fossero stati condotti tenendo conto della tutela ambientale. Pertanto le fiamme gialle hanno effettuato il sequestro preventivo del cantiere successivamente convalidato dal GIP presso il Tribunale di Crotone deferendo alla locale Procura della Repubblica anche due responsabili del cantiere in relazione alle riscontrate violazioni penali della normativa sull'edilizia. E ora passiamo allo sport precisamente alla palla a volo dopo aver centrato l'accesso ai play-off la Tonno Callipo Vibo Valencia si prepara allo scontro con la prima della classe. Giocare senza aver nulla da perdere può essere certamente un vantaggio ma farlo con la prima della classe che ha letteralmente dominato la regular season non facilita per nulla il compito. Questa è la situazione della Tonno Callipo Vibo Valencia che come noto a Ravenna sabato scorso ha centrato l'ingresso nei play-off scudetto. Essere arrivata fra le prime otto è già un grandissimo risultato per una squadra che, lo ricordiamo, è una neopromossa. In buona sostanza Vibo ha già centrato l'obiettivo. Ciò permetterà alla squadra giallorossa di giocare contro Civitanova senza aver nulla da perdere. L'ottavo posto conquistato infatti costringe la squadra calabrese ad affrontare la prima della classe, ovvero la squadra di Blengini che nei due incontri di regular season ha già battuto la Tonno Callipo due volte per 3-0. Pronostico chiuso quindi, la squadra dell'ex allenatore di Vibo oggi anche tecnico della nazionale è nettamente favorita. Domenica è il primo atto, poi mercoledì gara 2 a Vibo Valencia. Si gioca al meglio delle tre partite. Anche in caso di eliminazione però la stagione di Vibo non finirà qui. Le squadre eliminate nei quarti infatti giocheranno i play-off per il quinto posto con in palio un pass per l'Europa. Momento difficile per il Cosenza a calcio dopo tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro gare. Sul momento particolare della squadra sentiamo le parole del difensore Angelo Corsi. Anche prima ho detto che non c'è una soluzione certa perché se l'avessimo l'avremmo già presa, l'avremmo già messa in atto. Se ne esce dando tutto se stessi, cercando di mettersi dentro un'ampolla di vetro, cercare di ascoltare il meno possibile o meglio, ascoltare ciò che ci dà forza. Anche una critica ricevuta, se una persona di carattere sa reagire a quella critica, è giusto che l'ascolta. Ma riguardo a altre volte che ci siamo trovati in questa situazione, forse peggio. Mi ricordo un paio di anni fa, due anni fa soprattutto, dopo i derby di Galanzaro al ritorno, abbiamo perso Nazzaro lì. Oppure le prime dieci partite quando l'allenatore era Cappellacci, se non sbaglio. Ci siamo messi sotto, la fortuna di questo sport è che si gioca una volta a settimana, non c'hai così tanto tempo per metterti queste cose dentro e magari marcirci un po'. Quindi dobbiamo lavorare, lavorare come stiamo facendo, perché vi assicuro che stiamo lavorando benissimo, sotto tutti i punti di vista. Purtroppo stiamo mancando i risultati, e se le mancanze di risultati sono due, magari a me ne si è di un secondo, due secondi a partita, perché a Francavilla c'è l'unico mezzo di rimporta, abbiamo perso la partita, dobbiamo cercare di evitare anche quei minimi errori che in questo momento ci penalizzano. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 18 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi.